Portagonista, prima del match Weissmans è stata ritirata la sua maglia, un momento storico nel campionato italiano di pallavolo, per la prima volta sei qui in Borghese ad assistere a quella che è stata la tua squadra per un decennio, ti chiedo le prime sensazioni. Vabbè è strano essere qua non vestito da giocatore, però mi ha fatto molto piacere e molto onore e ne sono molto orgoglioso del fatto che mi hanno ritirato la maglia al numero 7, è bello tornare, è bello essere qua. Come hai detto tu, ci ho vissuto dieci anni, ci ho lavorato dieci anni e mi manca, però nella vita è così, adesso sono entrato con la mia famiglia in una nuova avventura e però è sempre bello essere qua. Sento ti chiedi la partita che non dimenticherai mai con la maglia di cunia, questa la posso immaginare o è la partita che vorresti rigiocare se potessi? Vabbè sicuramente quella che è il Scudetto, la Bologna, la finale Scudetto vinta è stata un'emozione unica, da rigiocare sarebbe l'anno dopo la finale Scudetto a Roma che avevamo un po' di problemi sul fatto che si sapeva che Giuliani andava via, Parodi andava via, non eravamo più il gruppo che avevamo un paio di mesi prima, quando avevamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa contro Trento. Sì, però nella vita, nel gioco, nello sport funziona così, alti e bassi, ma mi ricordo i momenti belli, ci sono stati tanti, mi ricordo tutto e rimarrà sempre con me. Grazie, un bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.